Giorgio, Peppa, siete pronti? Arriviamo! Giorgio, non dimenticarti la canna da pesca! Sì, ce l'ho! Ce l'ho! Sì, fermo! Papà, ho scordato il mio dinosauro! Fai in fretta! Sì! Papà, devo andare in bagno! Peppa, perché non sei andata a casa? Torno subito! Possiamo andare ora! Oh, che pesante! Papà, usa questo! Proprio quello che mi serviva! Grazie, Peppa! No, no, no! No, no! oh non arriveremo da nessuna parte di questo passo niente panico george prendi la ruota di scotta ma non ne abbiamo una papà dovremo spingere dai ancora un pochino perché non si stanno occupando di questo veicolo ehi salve qual è il problema qui ehi lifty abbiamo una ruota bucata controllo subito non credo di avere una di quelle gomme nella mia ufficina e quindi cosa facciamo? vi riparerò la gomma grazie lifty aspetta un attimo non ho ancora finito potete andare ora ciao lifty grazie ciao ciao oh ci siamo finalmente george vieni a pescare con me? ma certo papà vengo anch'io peppa mi serve il tuo aiuto qui ok mamma mamma peppa guardate che pesce grande abbiamo preso ora dobbiamo friggerlo che bello essere riusciti finalmente a fare un picnic e quindi non ci siamo it's